Minion has spawned Minion has spawned va bene apriamo game quindi di riscaldamento va bene chat via via dobbiamo fare il level 2 prima va bene che gliela scampiamo very good very very good molto benissimo anche i cledd ripato male allora oggi è il giorno del limit testing quindi potrete vedermi andare in lane 025 oppure no voglio vedere quanto riesco a generare pressure con vittorio voglio vedere proprio quanta pressure riesco a generare questo champ di merda mid e quanto riesco a sopravvivere a tutti i gank che mi arriveranno perché giocherò perma pushato ok con Iredia non è fattibile next game next game manco con Malzor manco con Malzor perché mi outpusha allora minchia Malzor Trandol Nidalee ok Minion has spawned va bene va bene primo game quindi di riscaldamento eh va bene chat via via dobbiamo fare il level 2 prima va bene che gliela scampiamo very good very very good molto benissimo anche Kled ripato male potremmo andare incontro a Mastery perché potrebbe poppare di lì Nidalee no continuiamo col vittorio pazzo sì e oggi è un testing day volevo provare a pushare come un matto mi è andato unlucky primo game contro Malzor che vince lui tutta la vita il push vediamo se Mastery ci ascolta oh cazzo madonna mia se fai schifo al cazzo come fai schifo al cazzo dai ho preso guarda che muoro di veleno fuck volevi abbiamo un piccolo piccolo jungle gapperino piccola eh just a tiny bit just a tiny bit but it's fine no in realtà il trucco tra virgolette contro Malzor non è tanto piazzare la mia R sulla sua R perché vabbè devi essere cioè devi avere culo ma piazzargli la W quando gli predicti la R c'è devi arrivare il top lane really? va bene no non mentale no la prende Malzor va bene va bene no 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 ok I'm fine posso resettare sì abbiamo un bel reset abbiamo tp su una ward che non esiste su una ward che non esiste madonna mia madonna mia ma l'ho presa io madonna mia però è che join in una fight flencando e si girano tutti su di te il tuo team dorme non dovevo gioinare dovevo far morire tutto il team e pushare ancora mid dovevo tippare mid e prendermi una plate ah no che non ci sono più ero in mezzo a trema perchè il mio team è un team di deficienti dove cazzo sono masteria è morto qui cioè masteria ci è stato fino alla morte nida lì ma no non 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 ma non eh 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 oh bene ho perso il carretto purtroppo ho perso il carretto purtroppo va bene qui ho usato troppo direi allora il problema è Draven, Draven mi fa malissimo poi ha Collector eppure quel cazzo di Shieldbow sta farmando abbastanza meglio direi di quel cane di Vain Vain fa proprio schifo ma che cazzo fa? ma che cazzo sto vedendo? ah dobbiamo riuscire a fare una Fanta Fight tipo qui figurati non c'ho un cazzo di team che era buono cazzo avevo messo i Fanta Danni cosa fa Mastery? leggi tu novi nove leggi tu novi nove leggi tu uno vi nove leggi tu uno vi nove leggi tu uno vi nove cazzo non sei l'attento che si impigna con la R lui sono fottuto finora dovete lasciarmi le ki il cazzo allora 140 vende 160 160 sardo stardo e non c'ho mana andiamo andiamo questo è free questo è fottutamente free meri goomba e non c'ho 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 pepeo come primo game di riscaldamento not bad che team qua è gold questa account qui è gold beh excuse me excuse me